Qual è il vostro impegno? L'impegno e la bontà del nostro lavoro soprattutto nell'ambito della partecipazione e del coinvolgimento della struttura organizzativa come comune. C'è inorgoglito e l'abbiamo ritenuto un risultato molto importante. Quello è il primo tassello di un impegno che da lì si sviluppa e abbraccia tutti i settori. Chi conosce EMAS sa cosa voglia dire come impegno, come verifiche dal punto di vista dell'impegno sull'ambiente, per la struttura del comune e verso terzo. In parallelo non dimentichiamo comunque tutte le altre attività che facciamo a supporto insieme, ad esempio con questa lodevolissima tre giorni di fare i conti con l'ambiente. Qualcosa io credo di straordinario, 60-20 in tre giorni a tema ambientale su rifiuti, acqua, che non sono, scusatemi, lasciatemi dire, una semplice fiera espositiva, ma sono momenti di approfondimento molto tecnici, molto specifici, credo anche molto produttivi. Non è un'esposizione ma è veramente un sviscerare i temi, confrontarsi, conoscerli, apprendere per poi migliorare le proprie esperienze, le proprie attività in campo ambientale. Grazie, grazie, buona giornata.